E' proprio bello per andare fuori in motocross e come diceva il bravo, non so se si è affatto con il posto e va a meno 10 anni, forse, e ha spesso nel 90 da un momento, diceva il bravo, devi tenere sempre aperto i tasti e se non fuori, non è più davanti, devi tenere aperto E' proprio bello per andare fuori ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.